sono adegabri del baule della nonna e questo è il tutorial dove abbiamo realizzato questi meravigliosi astucci guardate anche dentro come barri finito e su quest'altro ci ho messo le mie penne da una parte i trucchi e dall'altra le penne sono piccoli borsellini o pochette o astucci realizzati con un punto molto fitto in modo da non doverli per forza foderarli e allora iscrivetevi al mio canale perché da me tutto è gratuito e guardate che cosine carine che realizzo questo è lo stesso punto di questo solo che qui ho alternato questi punti e nocciolina da una sola maglia mentre quest'altra da tre e l'ho fatto tutto colorato e allora amiche mie mettete mi piace condividete